Elisabetta II è morta, un capitolo di storia si chiude. Il Regno Unito, i paesi dell'ex impero britannico e il mondo dicono addio in un clima di profonda commozione alla regina dei record, spirata a 96 anni nell'amata residenza scozzese di Balmoral, con attorno i quattro figli e i familiari più stretti, a cominciare dal primo genito ed ereda al trono Carlo, che a 73 diventa infine re con la seconda, moglie Camilla al fianco elevata a regina consorte. La figlia di Giorgio vi ha chiuso gli occhi per sempre nell'anno del giubileo di Platino, settantaesimo di un'era iniziata nel lontano 1952, e a diciotto mesi dalla scomparsa dell'inseparabile consorte Filippo. Dopo che solo martedì era riapparsa in un'ultima immagine pubblica, fragilissima, ma in piedi e con un sorriso sereno stampato sul volto, per, assolvere ancora una volta con dedizione irriducibile ai propri doveri di monarca costituzionale, presiedendo al passaggio di consegne fra Boris Johnson e Liz Truss, quattordicesimo e quindicesima premier della suo lunghissimo regno, iniziato sotto il segno di Winston Churchill ad Obning Street. Il segno del precipitare della situazione era stato dato in mattinata dall'annuncio del tutto il rituale, con cui Buckingham Palace aveva reso pubblica la preoccupazione dei dottori di corte per la sua salute, in declino ormai da qualche mese fra periodi di riposo, forfait obbligati e problemi di mobilità innescati verosimilmente da altre condizioni patologiche, nonché dalla loro decisione di porla sotto sorveglianza medica. Parole che evidentemente preparavano all'irreparabile, a quel momento, fatidico che l'anagrafe era destinata prima o poi a imporre, e che tuttavia un intero paese avrebbe voluto rinviare ancora, aggrappato a un punto di riferimento immutabile da decenni, a una delle poche ancora di certezza rimaste a disposizione dell'isola e forse del mondo. Re Carlo sul trono dopo l'attesa di una vita, mondo l'erede più paziente alle prese con le sfide della successione là, conferma che il tempo si stava ormai compiendo ed il resto arrivata con la partenza immediata di tutti e quattro i figli di sua maestà verso Balmoral, con Anna, Andrea ed Edoardo, accompagnato dalla consorte Sophie, sulla scia di Carlo. E con quella del nipote William, primo genito di Carlo e secondo in linea di successione, come del fratello minore Harry, sbarcato in Scozia senza la moglie Meghan, ad evitare altre ombre di gossip su un momento solenne e di dolore. Quindi un secondo comunicato è giunto a segnare la parola fine, di fronte alle folle dissudditi e ammiratori che nel frattempo si erano radunati tristi e angosciati davanti alla stessa residenza scozzese, a Buckingham Palace o al castello di Windsor, in una giornata resa luttuosa anche dal cielo grigio e dalla pioggia, sua maestà, le poche parole del testo ufficiale definitivo, è morta pacificamente questo pomeriggio a Balmoral. Il nuovo re e la regina consorte, Carlo e Camilla, rimarranno a Balmoral stasera e torneranno domani a Londra. Parole lette con voce rotta dall'emozione dai giornalisti della BBC e delle altre tv britanniche, e seguite dalle lacrime di non poche persone riunite nel cuore di Londra di fronte a Buckingham Palace per assistere all'amma in una bandiera del vessillo reale. Mentre sugli schermi, dopo qualche momento di silenzio, appariva un ritratto di Elisabetta nel fulgore della sua regalità al suono delle note dell'inno God Save the Queen, e dall'intero pianeta, monarchie o repubbliche, poco importa, partiva immediatamente il coro dei messaggi di cordoglio e dei tribotti, dal presidente, americano Joe Biden a leader o ex leader vari, rivolti alla memoria di una regina amata da tanti e rispettata da quasi tutti nei cinque continenti. I sudditi arrivano al castello di Balmoral dove si trova la regina Elisabetta, mondo dopo le notizie sulle crescenti preoccupazioni per lo stato di salute della regina Elisabetta II, decine di sudditi stanno cominciando a radunarsi davanti al castello, di Balmoral, in Scozia, dove si trova la sovrana. Giubileo di platino, la regina si affaccia al balcone, poi ringrazia i sudditi, resto al vostro servizio, Europa la sovrana chiude le celebrazioni con Carlo e William, sale l'inno la regina con i principini George, otto anni, Charlotte, sette anni, e Louise, quattro anni. La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia, ha commentato quindi Carlo, nel suo primo messaggio in veste di re. So che sarà profondamente sentita in tutto il paese, il regno, il Commonwealth e da innumerevoli persone nel mondo. E di conforto la consapevolezza dell'affetto e del rispetto provato verso la regina, ha concluso il nuovo sovrano che regnerà con il nome di Carlo III, come ha annunciato Clarence, House. Parole che riecheggiano quelle di esponenti politici di ogni colore in patria e di leader religiosi cristiani, musulmani ed ebrei. Siamo devastati, ha infine sintetizzato a nome della nazione Liz Truss, premier Tory designata da Elisabetta II appena 48 ore prima dell'addio, ultimo primo ministro del suo lungo regno. Il regno unito e il mondo sono sotto shock, ha proseguito Truss. Vestita di nero, rivolgendosi in diretta tv al paese fuori dal portoncino al numero 10 di Downing Street, la regina Elisabetta II è stata una roccia, sotto il suo regno questo paese ha prosperato. Non senza sottolineare il lutto di queste ore, ma anche la forza di un'eredità duratura. E promettendo lealtà ora a sua maestà il re Carlo III con la formula di rito riveduta e corretta, God, Savet e di rito 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 rito